buonasera ci troviamo dal contadino a macerata in corso cavour mi trovo nel bel mezzo di una degustazione di olio mono varietale abbiamo qui massimo che ci spiega le caratteristiche dell'olio mono varietale allora buonasera a tutti e ci troviamo qui dal contadino grazie per l'invito sempre ringrazio massimo e questa sera facciamo assaggiare gli oli mono varietali noi puntiamo molto su questa tipologia ne abbiamo sette che vanno da oli più o meno amare o piccanti tipo la mignola poi abbiamo degli oli più tenui piantone di moiano la scolana tenera poi abbiamo la carboncella che quest'anno ha vinto anche il terzo premio regionale al concorso l'oro delle marche la coroncina la raggia e il leccino e adesso il passo massimo che così vi spiegherà alcune cose buonasera questa sera abbiamo pensato di invitare l'azienda tre filari dire canati perché crediamo molto nel poter offrire alla nostra clientela un prodotto di qualità a chilometri zero e questo lo facciamo spesso questa sera è toccato all'olio più avanti sarà la volta del vino magari rinviteremo un'altra volta l'azienda dei tre filari e niente mi raccomando venite venite a trovarci spesso ok grazie un'ottima iniziativa quindi invito tutti a degustare olio mono varietale e prodotti tipici di alta qualità dal contadino a macerata corso cavour